It's my time, it's my life, I can do what I like, for the price of a smile, I gotta take it to ride Amici di Fashion One a Leverano, al Carioccafè, in compagnia del proprietario, lui è Vladimiro Ciao Vladimiro, come stai? Guarda, questa sera benissimo Grazie, come vai? Ci siamo noi di Fashion One? No, Fashion One prima di tutto, poi abbiamo Marco Lollo che è un grande e poi qui di fianco a me Serena, fantastica Intanto volevo farti complimenti perché il locale è veramente carino e è curato nel dettaglio, questo sicuramente è merito tuo Ci racconti un po' la storia del locale? La storia, questo è un locale che negli anni 70-80 andava alla grande, diciamo che era uno dei primi, poi man mano col tempo è andato a sfumare e io l'ho preso sei anni fa e stiamo riuscendo comunque a mandarlo avanti, a farlo crescere Io dico che ci sei riuscendo alla grande Io so che tu hai dei progetti, che vuoi fare dei miglioramenti, insomma di un programma abbastanza particolare Ci dici, le serate come andranno avanti questo inverno? Allora, le serate andranno avanti così, ogni 15 giorni avrò comunque una serata organizzata, se forse sarà presente anche Fashion One Con un'ospitata, con un'ospitata diversa, serena, comunque lei me la porto con me a tutte le parti E poi avrò anche in settimana alcuni appuntamenti con l'aperitivo a base di vino Ti offrirò io salumi, formaggi e altre cose E poi avrò una serata in particolare con il sigaro, farò una degustazione di cognac, brandy Bellissimo! E io ti offro il sigaro così ve l'ho fumata Ciao ragazze, venite spesso qui a Carioca? Sempre Siamo clienti Pissi Cosa ne pensate di questo locale? È un bellissimo locale dove passare la bella serata Ovviamente, essendo clienti Pissi, sto sempre qui, quindi è grande Vladimiro È un bel locale, Vladimiro, è in gamba Ciao, venite spesso qui a Carioca? Sì, sì Siamo al nostro tempo libero Cosa ne pensate? È un bel posto, è un bel locale Con niente, ci troviamo con gli amici Cosa ne pensi di questo locale? Bello, è bello È un punto d'incontro per noi giovani Un aggettivo per descrivere il Carioca? Bellissimo Ci veniamo spesso perché è un bar molto bello e ci troviamo molto a nostro agio Bellissimo, top of fashion Insomma, hai un vulcano di idee, io ti faccio tanti auguri Grazie Un sacco di complimenti e invitiamo tutti gli amici di Leverano e Carioca Caffè Ogni sera e ogni mattina, giusto? Anche ogni mattina per le colazioni li aspettiamo, siamo qui, aperitivo e colazione Insomma, siamo uno staccanovista Non mi stanco mai, ci sono sempre Va bene, ci salutiamo insieme gli amici di Fashion One Ciao amici di Fashion One Ciao a tutti, ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti